Nessuna idea merita di essere realizzata se non contribuisce al benessere delle persone. Nessun progetto può essere portato avanti senza un impegno forte e costante. Telecom Italia, la più grande azienda italiana di telecomunicazioni, è partner tecnologico globale di Expo 2015. La visione di Telecom Italia per Expo 2015 è di permettere alle persone di comunicare, connettersi, condividere conoscenze, progetti e idee in modi innovativi, intelligenti e coinvolgenti, così che i paesi partecipanti e l'ente organizzatore possano offrire ai visitatori un'esperienza davvero unica e memorabile. Il progetto di Telecom Italia per Expo 2015 è un avanzatissimo sistema tecnologico integrato che comprende IT e telecomunicazioni, focalizzato sulle necessità dei visitatori e paesi espositori. Al cuore del sistema si trova EC3, il centro di comando e controllo. EC3 è un network di 850 persone impegnate senza sosta in attività di monitoraggio e controllo completo del sistema, così da assicurarne il perfetto funzionamento locale, presso i padiglioni degli espositori, e globale nell'intero sito di Expo 2015. Il know-how degli ingegneri del centro di comando e controllo garantisce l'integrazione fluida e costante dei servizi erogati da Telecom Italia, da altri partner globali o da fornitori diversi, così da soddisfare le necessità più avanzate sul fronte informatico e delle telecomunicazioni. Lo scopo è massimizzare il successo di ogni padiglione, riducendo le complessità, ottimizzando i flussi di lavoro e creando soluzioni su misura. Telecom Italia ha progettato un pacchetto articolato di funzionalità all'avanguardia, incentrate sull'esperienza degli utenti, per aiutare ogni espositore a presentare al meglio il proprio paese, per creare un racconto multimediale immersivo davvero unico, che ispiri i visitatori e rimanga nei loro ricordi. Un'altra serie di soluzioni tecnologiche è dedicata allo staff dei Paesi Espositori, per facilitare le operazioni dei padiglioni e per assicurare completa integrazione tra applicazioni, dati, dispositivi e persone. Lo scopo è migliorare il benessere e l'efficienza dello staff, rendendo più facili, veloci e sicuri lo scambio di documenti, la connessione e la collaborazione. Prima e durante l'evento, l'infrastruttura tecnologica avanzata di Telecom Italia permetterà ad ogni padiglione di connettersi e comunicare con Expo e con il proprio Paese. Grazie ai servizi di Telecom Italia, ogni padiglione diventerà uno strumento inedito di narrazione a disposizione dei propri visitatori e di chi si connette in remoto, trasmettendo i propri contenuti e condividendo quelli generati dagli utenti. L'integrazione dei servizi non è solo una questione di cavi e di tecnologia. L'integrazione è conoscenza, condivisione e cooperazione, passione per le persone e fiducia nel futuro. Questa è la nostra idea. Connettere Paesi diversi per mezzo dei più avanzati standard tecnologici è la nostra missione. Servizi tecnologici di Telecom Italia per Expo 2015. Soluzioni globali per il sistema di comunicazione integrato più intelligente, mai realizzato per un'esposizione universale.